13 chilometri in corsa sui sentieri del Monte Maddalena, questa domenica 26 gennaio torna la Calabrosa Trail, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla SD Sport Club Brescia Libera Avventura, quest'anno alla terza edizione, partenza alle 9.30 del mattino dalla sede del Museo Mille Miglia di Brescia con un percorso spettacolare tra i sentieri che risalgono il monte. Ben 850 metri di dislivello fino in vetta alla Maddalena dove sarà approntato il punto di ristoro intermedio, la manifestazione offrirà anche un percorso ridotto più semplice da 6 chilometri dedicato a famiglie e da chi piace fare una passeggiata. L'edizione 2014 dedicata a Corrado Petromer, ex presidente della SD Brescia Libera Avventura, i proventi derivati dall'iscrizione alla corsa andranno devoluti interamente all'ant di Brescia. Un percorso, quello della Calabrosa Trail, importante perché dal punto di vista paesaggistico è stupendo perché saliamo dal sentiero numero 1, sopra Santa Eufemia, fino ad arrivare alla chiesa in cima alla Maddalena. Poi scenderemo attraverso vari sentieri, il sentiero numero 4, il sentiero numero Pozze, praticamente a monte di via Sanson per poi risalire per altri 200 metri attraverso il sentiero numero 3 e poi l'ultimo pezzo, il sentiero numero 2, che ci riporterà a Santa Eufemia e al Museo Mille Miglia. Un percorso che gli atleti più forti impiegano circa 1 ora e 20, 1 ora e 25 per tutto questo percorso, ma è un percorso indicato anche agli appassionati del cammino in montagna. Io penso che gli ultimi arriveranno in circa 3 ore.